How to feel the music al lavoro come sarebbe andata perché spesso a volte lavoro e scuola non riflettono la stessa realtà. Invece proprio pochi giorni fa mi ha detto anche al lavoro ho visto che riesci, riesci bene. Noi siamo contenti del suo impegno, di quello che ha imparato qui, anche diventato più spidiato con la gente. Ha imparato veramente tante cose qui da voi, a lavorare anche in un team, a stare con le persone. Sono da sola e qua ho trovato una famiglia, dei amici, quindi le devo ringraziare un po' a tutti per restare con me qua. Non avevo mai lavorato, è la mia prima esperienza lavorativa e sicuramente come prima esperienza è molto importante perché questo è uno dei locali più importanti. Se potessi tornare indietro lo rifarei altre centomila volte, venire qua a lavorare al Bounty perché penso di essere stata veramente molto fortunata nel trovare uno staff così affiatato, con cui ho legato subito, con cui scherziamo, ridiamo, con cui sto veramente molto bene. Sono grata di lavorare qua al Bounty. L'abbiamo vista molto più sciolta, molto più aperta anche nei rapporti interpersonali, nel modo di dialogare, nel modo di porsi. Ad oggi, dopo un mese un po' di più di lavoro, Liga lavora tanto, torna stanca, quando finisce di lavorare rimane con i colleghi, torna a casa contenta, guadagna, finalmente ha una situazione di autonomia. Poi noi abbiamo una nostra impresa, delle imprese familiari, lei poteva lavorare con noi ma io ho ritenuto giusto che lei facesse delle esperienze fuori. Quindi, se questo è vero, si lavora tanto, si guadagna e si è contenti, complimenti a chi non rende possibile. Da comì, a runner, a order e ora mi trovo a essere manager. È una scuola, impari della prima cosa, all'ultima anche sì, io già avevo esperienza, ancora sto imparando tante cose. Come portare il vassoio, come portare i piatti, come accogliere, ho imparato tutto qua. Anche l'inglese, ho imparato tutto qua. I primi giorni, prima di cominciare a lavorare, abbiamo fatto varie lezioni per imparare le cose più basilari, come portare un vassoio con dei bicchieri oppure portare i piatti. A me è piaciuto tantissimo, a parte il fatto che mi piace proprio avere responsabilità e fare l'order è una responsabilità, però anche il contatto con i clienti a me è sempre piaciuto, mi aiuta ad aprirmi e mi aiuta anche a conoscere molte persone nuove. Confronto all'esperienza che ho passato questo inverno, ho notato che il bounty è molto più organizzato. Sì, 108 ragazzi, un bel numero ragazzi, è una bella squadra, è una bella giurma. Allora, prima guardavo ovviamente, perché facevo i fritti così, poi dopo mi hanno messo lì a provare le carbonare, ma non ho spiegato come funzionava, poi adesso bene o male me la cavo. È una bella città, è bellissimo lavorare davanti al mare. Perché mi piace il bounty è l'ambiente che c'è dentro, che sono tutti ragazzi che ci divertiamo e ogni frattempo lavoriamo. Nel momento in cui metti i piedi al bounty, o scuola bounty, come è meglio dire, l'obiettivo del locale è proprio quello di farti crescere a livello sia professionale, ma nello stesso tempo anche personale.